a tutti sono sempre messi striker e benvenuti in questo nuovissimo video e oggi sono qui con la nuovissima mod e qui ci mancano due pezzi di vetro comunque questa mod si chiama revolver mod e aggiunge come sapete il revolver è una pistola e aggiunge molti molte cose a parte questa pistola allora passiamo subito ai crafting che sono davvero tanti allora come vedete ce ne sono davvero tanti incominciamo a cartare il manico che si fa in questo modo ovviamente tre pezzi di ossidiana tre pelle riteniamo il manico mettiamolo qua poi con facciamo così dai con quattro redstone 4 redstone un diamante 4 pezzi di ferro facciamo la rondella e poi abbiamo questo 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 e questo tutto quanto e facciamo tutto il resto ma so i crafting sono un po complicati non voi nel forum, cioè nel link in descrizione, troverete tutti i crafting, allora facciamo questo, dovrebbe essere il grilletto, questa è la rondella, ci vediamo la rondella, poi stava quell'altro che è questo, e quell'altro che era così, no, com'era? Ah sì, così. Bene, ora abbiamo tutte le cose per fare una pistola, mettiamo, facciamo le due, anzi, comunque, come stanno in questa forma, in questo modo, otteniamo la pistola, facciamole due, chi si ricorda? Proviamo, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, no, questo qui, questo qui e questo qua, bene, che figo, comunque, adesso possiamo cartare anche i proiettili, perché così da solo quando spara, allora ci sono i proiettili di terra, che si fanno in questo modo, proiettili d'oro, ok, si fanno in questo modo, poi ci sono altri tipi di proiettili, un proiettile d'oro, insieme alla polvere da sparo, fa il destruction bullet, il proiettile destruttivo, quello insieme alla lava, sempre d'oro, ovviamente, fa un fire bullet, lo dice la parola, fa il fuoco, e poi, insieme all'ender, così pure, fa il teleporting bullet. Poi, se noi, per esempio, abbiamo consumato la pistola, se la vogliamo riparare, facciamo così, mettiamo l'ossidiano a fianco, la ledson sopra, i ferri, al resto, e otteniamo un'altra pistola. Andiamo a testare. Allora, come vedete, in basso a destra, abbiamo i bullet di ferro, di oro e tutto il resto. Quelli sparano prima quelli che stanno più avanti, quindi ora sto sparando quelli di ferro, eccoli. Poi ci sono anche quelli potenziali. Bene. Allora, proviamo a trovare, ecco, i porcelli. Spariamo. Ok, due colpi per un maiale. Comunque voi non sentite il rumore, ma è una cosa bellissima. Adesso, troviamo quelli d'oro. Ok, un colpo, ecco. Sprechiamoli. Mmm, sta facendo anche tutto. Ok, ora proviamo Destructive bullet. Ok. Ho visto un effetto particles, cioè, tipo una mini-esplosione, forse leggermente più forte. Questo invece è di fuoco. Questo qui è il teleport. Vediamo. Ecco, sì, c'è detto, teleporta. Bene. Molto carina come mod. Il mio voluto è un otto. Un otto e mezzo, dai. Un otto e mezzo. È fatta bene e mi piace anche il fatto perché ci sono molti crafting, perché per fare una persona non è che ci vuole un poco, ci vuole tanto. Ticci un po' qua. E intanto, mi raccomando, lasciate un mi piace e ciao ciao, troverete i link in descrizione. E tutto adesso. Bye.